Benvenuti a tutti. Oggi è il 23 ottobre e siamo qui per scoprire cosa ci riserva l'oroscopo di oggi. Preparatevi a esplorare le stelle e a scoprire come influenzeranno il vostro segno zodiacale. Segno Ariete. Ariete. La tua ondacia è la scintilla che illumina il tuo cammino. Questo mese. Abbraccia la tua forza interiore e fiducia in te stesso. Le sfide possono sembrare insormontabili, ma ogni passo è un'opportunità per crescere e imparare. Connettiti con la tua essenza. Rifletti sui tuoi desideri e non temere di perseguirli con passione. L'universo è pronto a manifestare i tuoi sogni. Quindi affronta ogni nuovo giorno con grinta e amore. L'energia travolgente sarà il vostro punto di forza oggi. In coppia, riuscirete a portare una ventata di passione e vitalità, sorprendendo il partner con gesti andaci e spontanee. Se ci sono stati momenti di tensione, oggi riuscirete a dissiparli con la vostra capacità di agire rapidamente e senza remore. Per i single, è il momento di buttarsi. Perché le stelle vi spingono a prendere l'iniziativa e a conquistare chi vi interessa. Ci sono alcune faccende in sospeso, soprattutto sul piano lavorativo, che devono essere risolte il prima possibile. Le stelle vi invitano a essere risoluti, ma anche cauti nelle decisioni che prendete. Mantenete la concentrazione e affrontate ogni sfida con determinazione, ma senza lasciarvi travolgere dall'impazienza. Segno Toro. Toro, la tua stabilità è un dono prezioso per chi ti circonda. In questo periodo, prenditi cura anche del tuo spirito. Le relazioni che hai coltivato con amore e cura fioriranno in modi inaspettati. Prenditi un momento per riflettere su ciò che desideri realmente e lascia che la tua determinazione ti guidi verso la realizzazione dei tuoi sogni. Abbraccia la bellezza della vita e lascia che l'amore sia la tua guida. La vostra ricerca di stabilità potrebbe essere messa alla prova oggi. In coppia, il partner potrebbe desiderare più spontaneità, quindi cercate di uscire dalla vostra zona di comfort e sorprendere con qualche novità. Per i single, il desiderio di costruire qualcosa di solido potrebbe farvi perdere di vista il lato più leggero e divertente degli incontri. Le stelle vi consigliano di rilassarvi e lasciarvi andare, senza forzare troppo le situazioni. Le stelle sono dalla vostra parte, soprattutto sul fronte professionale. È un ottimo momento per inseguire i vostri obiettivi, ma ricordate di non agire con troppa fretta. La determinazione sarà la vostra alleata, ma è importante anche non perdere tempo in inutili chiacchiere. Rimanete concentrati e vedrete i risultati. Segno gemelli. Gemelli, la tua mente brillante è un faro di luce nel buio. Questo mese, sfrutta la tua curiosità per esplorare nuove idee e connessioni. Lasciati ispirare dalla diversità del mondo che ti circonda e ricorda che la vera comunicazione viene dall'ascolto. Apri il tuo cuore e anima a nuove relazioni. Possono portarti gioia e crescita. Sì il cambiamento che desideri vedere nel mondo e il tuo mondo inizierà a cambiare. La vostra capacità di adattarvi alle situazioni vi renderà particolarmente brillanti in amore oggi. In coppia, riuscirete a comunicare con grande facilità, risolvendo eventuali problemi con dialoghi sinceri e aperti. Per i single, le stelle favoriscono incontri stimolanti e pieni di conversazioni intriganti. Lasciate che la vostra curiosità vi guidi e non abbiate paura di esplorare nuove possibilità romantiche. È tempo di prendere in mano la situazione, soprattutto in amore. Le stelle vi invitano a essere più decisi e a non lasciare che l'incertezza o il temporeggiare vi trattengano. Affrontare di petto certe questioni vi aiuterà a trovare la chiarezza che cercate. Nel lavoro, siate altrettanto risoluti. Segno Cancro. Cancro. La tua empatia è un dono raro e prezioso. Questo mese, concediti il permesso di essere vulnerabile e esprimi le tue emozioni senza timore. La tua autenticità è la tua forza e le relazioni si approfondiranno quando sarai sincero con te stesso e con gli altri. Medita sui tuoi legami. Sono le radici della tua crescita. Abbraccia il cambiamento e ricorda che ogni esperienza, bella o brutta, è una lezione. Lascia che l'amore fluisca e nutri i tuoi sogni. L'amore riprende quota e vi permette di vivere momenti intensi e felici. Tra oggi e domani vi sentirete più sereni e in sintonia con il partner, pronti a godere appieno di ciò che la vita vi offre. Sul fronte lavorativo, la vostra determinazione vi porterà lontano. Non smettete di credere nelle vostre capacità. La sensibilità sarà il vostro punto di forza oggi, permettendovi di entrare in sintonia profonda con chi vi circonda. In coppia, saprete come cocolare il partner e farlo sentire al centro della vostra attenzione. I single, invece, potrebbero vivere momenti di dolcezza inaspettata con qualcuno che capisce e apprezza la vostra natura emotiva. Le stelle vi invitano a esprimere i vostri sentimenti senza timore. Segno leone. Oggi potreste sentire il bisogno di essere al centro dell'attenzione, ma cercate di non esagerare. In coppia, il partner apprezzerà la vostra generosità e il vostro desiderio di rendere speciale ogni momento, ma fate attenzione a non sovrastare le sue esigenze. Per i single, la vostra personalità magnetica attirerà sicuramente l'interesse di qualcuno, ma sarà importante non spingere troppo le cose. Lasciate che l'amore arrivi a voi in modo naturale. Ci sono questioni in sospeso che vanno risolte, ma affrontatele con calma, senza farvi prendere dall'ansia. Sul lavoro. Mantenete la vostra sicurezza e non lasciatevi scoraggiare. In questo mese, riconosci il tuo potenziale innato e la tua capacità di ispirare gli altri. Non esitare a esprimere i tuoi talenti e a prendere il comando. La tua creatività è un faro che guida gli altri verso la loro strada. Ricorda di restare umie, anche quando brilli di luce propria. Le relazioni possono fiorire quando sei aperto e generoso. Condividi la tua luce e l'universo ti ricompenserà con opportunità straordinarie. Abbraccia ogni giorno come un palcoscenico per la tua grandezza. Segno vergine. Cara vergine, la tua attenzione ai dettagli è un dono prezioso. In questo mese, lascia andare la critica verso te stesso e gli altri. Abbraccia la bellezza dell'imperfezione e permetti alla tua anima di respirare liberamente. Le relazioni possono diventare più profonde quando ti concedi di essere vulnerabili. Utilizza la tua capacità di organizzare per pianificare i tuoi sogni. Ma ricorda che a volte la spontaneità porta alle gioie più grandi. Medita su ciò che conta davvero per te e segui il tuo istinto. Penché la tua saggezza interiore ti guiderà verso la strada giusta. Il vostro senso pratico vi aiuterà a gestire con cura le relazioni. Per i single, gli incontri potrebbero essere caratterizzati da un approccio razionale, dove la compatibilità intellettuale giocherà un ruolo centrale. Non abbiate paura di prendere le cose con calma e valutare attentamente le vostre scelte.Siete al centro di un periodo di grande determinazione. Le stelle vi invitano a essere risoluti e a portare avanti i vostri obiettivi con determinazione. Non è il momento di farsi scoraggiare da dubbi o incertezze. Siate propositivi e non perdete di vista ciò che desiderate. Ogni passo che fate vi avvicina sempre più al traguardo. Segno bilancia. Cara bilancia, la tua ricerca di armonia è un dono per il mondo. In questo mese, cerca l'equilibrio non solo nelle relazioni, ma anche dentro di te. Dedica del tempo alla meditazione e all'introspezione. Ciò ti porterà chiarezza e serenità. Le emozioni possono sembrare altallenanti, ma ricorda che sei il maestro della tua realtà. Circondati di persone che elevano il tuo spirito e alimentano i tuoi sogni. Ogni passo verso l'autoaffermazione ti avvicina alla tua vera essenza. Oggi potreste sentirvi un po' indecisi nelle questioni amorose. In coppia. Potrebbe esserci la necessità di trovare un equilibrio tra i vostri desideri e quelli del partner. Prendetevi il tempo per discutere apertamente e trovare un compromesso. I single, invece, potrebbero sentirsi attratti da più persone, ma faticare a fare una scelta definitiva. Le stelle vi consigliano di seguire il cuore e non avere paura di prendere una decisione. Non dovete sempre cercare di fare tutto da soli. Accettare il supporto di una persona cara potrebbe rivelarsi più utile di quanto pensiate. A volte la permalossità vi fa isolare, ma è proprio nei momenti di difficoltà che l'aiuto esterno può essere prezioso. Apritevi a questa possibilità, specialmente nelle questioni personali. Segno Scorpione. Caro Scorpione, la tua intensità è la tua forza. In questo mese, esplora le profondità della tua anima e abbraccia le emozioni con coraggio. Le trasformazioni sono in arrivo e ti offriranno l'opportunità di liberarti da ciò che non ti serve più. Non temere di affrontare le tue paure. Sono solo porte verso una nuova consapevolezza. Le relazioni possono diventare ancora più profonde se sei disposto ad aprirti. Ricorda, la vulnerabilità è un segno di forza. Medita sulla tua vera essenza e lascia che la tua passione guidi le tue azioni. La vostra intensità emotiva sarà particolarmente forte oggi e questo potrebbe portare momenti di grande passione in coppia. Saprete come avvicinarvi al partner, creando un legame profondo e quasi telepatico. Tuttavia, cercate di non essere troppo possessivi o gelosi. I single, invece, potrebbero vivere incontri intriganti con persone misteriose e affascinanti. Siate aperti a scoprire nuovi mondi emotivi, ma mantenete sempre il controllo. Se vi sentite agitati, fermatevi un attimo e riflettete sulle cose positive della vostra vita. Le critiche non devono essere prese troppo sul serio, soprattutto se provengono da persone che non conoscono a fondo la vostra situazione. Prendetevi un momento per rilassarvi e ritrovare il vostro equilibrio interiore. Segno Sagittario. O Sagittario, il tuo spirito di avventura è un faro che illumina la strada per te e per gli altri. In questo mese, segui il richiamo della scoperta e dell'esplorazione. E non temere di uscire dalla tua zona di comfort. Le nuove esperienze ti porteranno a una maggiore comprensione di te stesso e del mondo e ti daranno la possibilità di scoprire nuove passioni e interessi. Sii aperto ai cambiamenti e alle nuove opportunità. L'universo ha in serbo per te sorprese meravigliose. Ricorda di coltivare la gratitudine per ogni esperienza. Penché ogni passo è un insegnamento che ti aiuta a crescere e a migliorare. Lascia che la tua luce brilli e ispiri gli altri a seguire il proprio cammino. La vostra voglia di libertà potrebbe essere un po' troppo forte oggi, portandovi a cercare spazi personali all'interno della relazione. In coppia. Il partner potrebbe sentirsi trascurato, quindi cercate di bilanciare il vostro bisogno di indipendenza con momenti di condivisione. I single, invece, potrebbero preferire l'avventura al romanticismo, concentrandosi su nuove esperienze piuttosto che su legami duraturi. Non abbiate paura di seguire il vostro istinto. Ma ricordatevi di non perdere di vista l'importanza delle connessioni emotive. Segno Capricorno. Caro Capricorno, la tua determinazione è un esempio di forza e resilienza. In questo periodo, sei spinto a fissare obiettivi ambiziosi e a lavorare sodo per raggiungerli. Non dimenticare che il percorso verso il successo è spesso costellato di sfide. Ma la tua pazienza e il tuo impegno sono le chiavi per superarle. Organizza il tuo tempo e le tue risorse con saggezza. Ogni passo che fai è un mattoncino nella costruzione del tuo sogno. Non temere di chiedere aiuto quando ne hai bisogno. collaborare con gli altri può portarti a scoperte inaspettate e a nuove opportunità. Ricordati di celebrare anche i piccoli successi lungo il cammino. Perché ogni traguardo raggiunto ti avvicina di più alla tua visione. Mantieni alta la tua motivazione e continua a scalare le vette della tua vita. Oggi potreste sentirvi particolarmente concentrati su questioni pratiche, lasciando in secondo piano la sfera amorosa. In coppia, il partner potrebbe percepire una certa distanza emotiva, quindi cercate di dedicare del tempo alla relazione, anche se avete molte responsabilità. Le stelle vi invitano a trovare un equilibrio tra lavoro e amore, senza trascurare i sentimenti. Segno Acquario. Acquario. La tua creatività e la tua originalità sono un dono prezioso per il mondo. In questo mese, abbraccia la tua individualità e non avere paura di esprimere le tue idee uniche. Potresti sentirti ispirato a lavorare su progetti che riflettono il tuo spirito innovativo. Segui queste intuizioni e lascia che la tua creatività fluisca liberamente. Le relazioni possono portare nuove connessioni significative. Quindi apriti a persone che condividono la tua visione del mondo. Ricorda che il cambiamento è una costante e hai la capacità di adattarti e prosperare. Non trascurare il tuo benessere mentale. Dedica del tempo alla meditazione o a pratiche che ti aiutino a rimanere centrato e focalizzato. Ogni giorno è un'opportunità per fare la differenza e lasciare il tuo segno nel mondo. La vostra indipendenza sarà un elemento fondamentale nelle relazioni oggi. In coppia. Riuscirete a bilanciare il desiderio di libertà con la necessità di condivisione, creando un'armonia unica con i partner. I single, invece, potrebbero essere attratti da persone che condividono la loro visione anticonformista del mondo, portando a conversazioni stimolanti e scambi profondi. Siate aperti alle novità e lasciate che l'imprevedibilità vi sorprenda. Segno pesci. Pesci, la tua sensibilità e la tua intuizione sono doni preziosi che ti aiutano a navigare nel mondo. In questo mese, segui il tuo istinto e non aver paura di esplorare il tuo mondo interiore. Potresti sentirti ispirato a dedicarti a forme d'arte o a pratiche spirituali. Lascia che la tua creatività fluisca liberamente e che la tua immaginazione ti guidi verso nuove scoperte. La tua immaginazione è un potente strumento. Utilizzala per visualizzare i tuoi sogni e obiettivi e per creare un futuro luminoso e pieno di possibilità. Le relazioni possono diventare più profonde quando ti concedi di essere vulnerabie e condividi i tuoi sentimenti autentici. Non esitare a mostrare il tuo lato più sincero. Questo creerà connessioni significative e rafforzerà i legami con chi ti circonda. L'indecisione vi accompagna, ma le stelle vi consigliano di fidarvi del vostro istinto. Seguite il cuore, ma senza agire con troppa fretta. In amore, il dialogo e il confronto con il partner sono essenziali per evitare incomprensioni. Sul lavoro, siate prudenti, ma risoluti nelle vostre scelte. L'assetto nella coppia si trasformerà presto in una evoluzione vera e propria fatta soprattutto di condivisione. Secondo l'oroscopo le emozioni saranno presenti in serata, insieme a tanta passione.